Inizia oggi la discussione all'Assemblea regionale siciliana sull'esercizio provvisorio che rischia di lasciare scontenti quasi tutti i partiti. Sarà un'altra lunga maratona con la mini finanziaria che sblocca una parte dei fondi della Regione e concede qualche contributo a teatro e precari in attesa della vera manovra di bilancio. Sono circa 80 alimentamenti presentati. Il testo presentato consente ai deputati dell'Assemblea la discussione fino a marzo per approvare la legge di stabilità. Ci sono poi altre norme. C'è il finanziamento da 250.000 euro per la Commissione via VAS e quello per i consorsi di bonifica. Previsto pure un fondo di compensazione di 15,9 milioni per gli stipendi da alcuni enti, associazioni, teatri che aspettavano parte della retribuzione del 2019. Ci sono inoltre 4,4 milioni per le ex PIP, LSU, RESAIS, canteri di servizio ed emolumenti aggiuntivi per i carabinieri. Ci sono i fondi per il 2020 per i teatri siciliani, dichiara il Presidente della Commissione bilancio Riccardo Savona. Massimo e Biondo di Palermo, l'Orchestra Sinfonica Siciliana, Vittorio Emanuele di Messina, Teatro Bellini e Stabili di Catania, Istituto Nazionale del Dramma Antico, i consorsi di bonifica, l'ESA e i forestali. È stato già rinviato alla manovra di bilancio il trasferimento del mutuo della sanità nelle voci del bilancio regionale. Ci sono tutti gli elementi per una lunga maratona che dall'anno scorso, nell'Aula dell'Assemblea regionale, approva solamente norme contabili.